Oh c'è il flash! Salve a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati sul mio canale Io sono Ica Sirro e oggi sono qui per un altro disegno Infatti by Ica Sirro Per il contest di Silver Wolf Scusa se sbaglio a pronunciarlo ma non so Ci ho provato Tanto come sempre non vinco mai Da 5 anni che provo a fare di tutto 5 anni che perdo sempre Ma dettagli Pronti? Ecco Ecco qua Questo è il disegno che ho fatto per Silver Wolf Sì sta cosa di Youtube la metterò in tutti i disegni Mi dispiace se l'ho disegnato male Non so ma non ho mai fatto l'artistico Quindi se avete dei consigli E poi non ho mai disegnato un maschio Ecco Cerco di metterlo il meglio possibile In modo che se vuoi puoi anche tagliare Ecco fatto Ci vediamo al prossimo video e al prossimo contest Che parteciperò Scrivete qua sotto se avete fatto un contest Ciao